Buonanotte e bentrovati alla terza edizione del TG6. In apertura le conseguenze dell'inchiesta sulla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola. Oggi e domani non ci saranno gli interrogatori di garanzia per quanto riguarda i sei indagati dalla procura di Pescara. Nella prima tranche dell'inchiesta sul crollo dell'albergo a causa della valanga il 18 gennaio scorso, crollo che causò 29 vittime. Nel frattempo il procuratore Cristina Tedeschini che conduce l'inchiesta assieme al sostituto Papalia ha voluto puntualizzare rispondendo alle polemiche di queste ore sui messaggi e sulle telefonate che Paola Tommassini provò inutilmente ad effettuare da sotto le macerie dell'albergo. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Saltano a causa dello sciopero degli avvocati indetto dal 2 al 5 maggio dall'Unione Nazionale delle Camere Penali Italiane. Gli interrogatori previsti per oggi e domani dei sei indagati nell'ambito dell'inchiesta della procura di Pescara sulla tragedia dell'hotel Rigopiano nella quale sono decedute 29 persone. Gli indagati sono il presidente della provincia di Pescara Antonio Di Marco, il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, Bruno Di Tommaso, amministratore della Gran Sasso Resort S.P.A., Paolo Dincecco e Mauro Di Blasio, rispettivamente dirigente e responsabile del servizio di viabilità della provincia di Pescara. Le ipotesi di reato sono omicidio e lesioni colpose e rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Cristina Tedeschini e dal sostituto Andrea Papalia. Proprio il procuratore Tedeschini stamani si è espressa sulle polemiche circa il ritardo negli interventi. I soccorsi hanno consentito di recuperare 11 persone vive, quindi sono stati, allo stato della nostra indagine, assolutamente tempestivi. Una persona era ricercata fin dal giorno 19 e morta il giorno dopo e l'hanno trovata il giorno 23 perché lo stato dei luoghi era assolutamente catastrofico e in alcun modo somigliante alle carte, alle piante e a tutte le indicazioni logistiche che erano a disposizione delle persone che cercavano. Trovo che sia veramente privo di senso continuare a criticare la fase dei soccorsi, aggiunge Tedeschini. Il dato che si è acquisito all'esito del deposito delle relazioni autoptiche in maniera definitiva è che c'è una persona che è rimasta viva ed era viva quando sono iniziate le ricerche perché i soccorsi sono stati operativi sul luogo a partire dal giorno 19. Questa persona è morta all'incirca il giorno 20 ed è stata trovata il giorno 23, ribadisce il procuratore aggiunto. Quindi è chiaro che il supposto ritardo di avvio dei soccorsi, che dovrebbe essere al massimo di un'ora e mezza, non è in grado di influire in alcun modo sul decorso purtroppo determinato da nostro signore del decesso di questa persona. Allo Stato, prosegue la Tedeschini, se avessimo avuto condotte da approfondire e valutare nei confronti di altre posizioni di garanzia lo avremmo fatto, mentre quelle che ci sono sembrate ragionevolmente degne di essere approfondite sono quelle che conoscete. Poi vedremo come proseguirà. Tedeschini lascia però aperta la porta ad ulteriori sviluppi dell'inchiesta. Vi è estrema attenzione a quello che si fa, chiosa la Tedeschini, e c'è un'indagine preliminare in corso che per sua natura è fluida e in movimento. Andiamo avanti con la pagina di cronaca. I carabinieri di Pescara hanno sventato un femminicidio nel giorno del primo maggio ed hanno arrestato un 58enne romeno accusato di tentato omicidio per aver accoltellato la compagna. I dettagli nel servizio di Paolo Renzetti. Femminicidio sventato a Pescara nel giorno del primo maggio dai carabinieri coordinati dal maggiore Claudio Scarponi che hanno arrestato un 58enne per tentato omicidio. L'uomo, ora ristretto al San Donato, lunedì scorso aveva aggredito con un coltello la convivente, anche lei romena, mandandola in ospedale dove la donna era stata poi operata d'urgenza. La sera del primo maggio si è sfiorato la tragedia, l'ennesimo femminicidio consumato, poiché un uomo intorno alle 23 si è recato a casa della propria compagna e appena entrato è scoppiata una violenta discussione e dalle parole si è passati immediatamente ai fatti. L'uomo armato di coltello si è avventato sulla donna, lei ha provato a difendersi ed ha riportato una lesione d'arma da taglio sul palmo della mano e successivamente nel tentativo di scappare è stata colpita da due fendenti alla schiena. Fortuna ha voluto che questo fosse un coltello da pane, quindi leggermente arrotondato, che ha fatto sì che le coltellate fossero poco profonde. La donna è stata relativamente fortunata, poiché sicuramente l'aggressione poteva avere con un tipo di arma diversa, potrebbe aver avuto sicuramente esiti molto molto più gravi, anche se è ricoverata da due giorni ed è stata operata d'urgenza per saturare le ferite. Quando siete arrivati tra l'altro avete trovato questa donna con il coltello ancora conficcato nella schiena? Il secondo colpo ha trattenuto l'arma e la donna è riuscita a scappare via. I finanziari del Comando Provinciale di Pescara hanno arrestato tre persone per il reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina e truffa aggravata. Si tratta di un'inchiesta che ha ricostruito l'ingresso e la permanenza illecita sul territorio nazionale di circa 500 extracomunitari. Una permanenza che ha causato un danno alle casse dell'erario per oltre 3 milioni di euro. Le misure cautelari sono state emesse dal GIP di Pescara Geluca Sarandrea su richiesta del PM Barbara Del Bono ai danni di due persone di Prato La Peligna in provincia dell'Aquila e una di Introdacqua, sempre nella provincia aquilana. Inchiesta che ha preso le mosse nel 2015 da interventi presso cantieri per ristrutturazioni nel post terremoto. Dietro l'apparente regolarità dei contratti di locazione si nascondeva un'organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione. Dopo otto mesi di indagini la squadra mobile della questura dell'Aquila ha denunciato tre persone. Sentiamo i dettagli nel servizio di Germana Dorazio. Cinque case di appuntamenti tra l'Aquila e Avezzano La polizia di Stato ha denunciato una cittadina italiana e due sudamericani per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione di cittadine sudamericane. I tre avevano organizzato una fiorente attività economica con tre case di appuntamento all'Aquila e due ad Avezzano, nelle quali lavoravano periodicamente giovani ragazze sudamericane. Dietro l'apparente regolarità di contratti di locazione si nascondeva una vera e propria organizzazione gestita e controllata dall'uomo, un cittadino di nazionalità sudamericana, che provvedeva al reperimento delle ragazze con la complicità di una sua connazionale e di una donna italiana. L'italiana aveva il compito di trovare gli appartamenti da adibire a case di appuntamenti. La donna sudamericana si presentava poi come coniuge dell'altro indagato per rassicurare i proprietari e facilitare così la locazione degli appartamenti. La donna poi provvedeva personalmente al pagamento del canone di affitto attraverso bonifici bancari a suo nome. Le indagini hanno evidenziato come gli indagati, dopo aver avviato la prima casa all'Aquila nella zona del Torrione nell'ottobre del 2015, dato il successo che aveva riscontrato l'attività nella clientela maschile aquilana, hanno deciso di aprire altre due case sempre nel capoluogo, nei pressi della villa comunale una e nella zona ovest della città l'altra, estendendo così successivamente il loro business ad Avezzano con l'apertura di altre due case di appuntamento. Il sistema di pubblicizzazione era semplice ed efficace, siti internet specializzati nel settore, annunci su quotidiani abbinati a numeri di telefono da contattare, che cambiavano sempre con l'avvicinamento delle ragazze per mantenere alto l'interesse nei clienti occasionali. Le giovani donne concordavano gli appuntamenti con i clienti e il cosiddetto regalino, che variava dai 50 ai 100 euro. Oltre alle tre persone denunciate, gli investigatori della squadra mobile dell'Aquila hanno completato l'identificazione anche delle numerose ragazze, tutte extracomunitarie, che lavoravano in queste case. Ora cambiamo argomento e ci occupiamo di sanità. Tre su quattro ospedali sono ad alta vulnerabilità sismica, è quanto afferma la Nau Assomed, che chiede quindi un piano di edilizia sanitaria che tenga conto delle esigenze dei pazienti. Sentiamo Tania Bondici-Castelli. Sono vecchi, in media hanno 40 anni, in alcuni casi costruiti con cemento impoverito e con vulnerabilità sismica medio-elevata. In Abruzzo tre su quattro ospedali sono inadeguati dal punto di vista strutturale e non rispettano i criteri utilizzati dalle più moderne tecniche di edilizia sanitaria. Anche i quattro presidi terramani sono in condizioni precarie, a partire da quello di Giulianova. Si è discusso di tutto questo, di edilizia ospedaliera, nuove strutture e sostenibilità economica dei progetti nel convegno promosso dalla Nau Assomed Abruzzo al Blue Palace di Mosciano Sant'Angelo. Per il sindacato abruzzese è urgente un piano di edilizia sanitaria che tenga conto dei veri interessi dei pazienti e sia al riparo dai campanilismi. Noi siamo partiti da un dato nazionale, cioè che esiste un'alta vulnerabilità sismica degli ospedali, in particolare nel nostro caso c'è una gradatoria che il più vulnerabile è quello di Giulianova e il meno vulnerabile è quello di Sant'Omero. Ora, nell'ambito di questi sicuramente bisogna fare dei grossi investimenti per poter rimettere questi ospedali a norma e insieme alla sismicità anche a norma da un punto di vista dell'organizzazione della sicurezza, dell'antincendio e via dicendo. Ovviamente vogliono investire su un ospedale unico, dunque forse questi ospedali che fine faranno? Allora, il ragionamento è questo, se bisogna investire su ospedali che hanno in media 40 anni e per ottenere delle situazioni intermedie e non all'eccellenza, perché poi a fianco alle caratteristiche strutturali bisogna anche mettere quella che è da un punto di vista dell'organizzazione, cioè oggi la medicina è cambiata, ci sono altre modalità di agire e quindi occorre trovare delle situazioni nuove. E noi per questo, diciamo, a questo punto riuniamo almeno tre ospedali in uno, lasciando un presidio che è quello probabilmente di Sant'Omero e penso che sia la cosa più giusta, che è quello a norma, che per metterlo in sicurezza occorre meno spesa, tra l'altro anche per una posizione strategica nel nord dell'Abruzzo, e in questo modo ricostruiamo una struttura unica, nuova, di 600 posti letto, sicura, e sicuramente pronta a rispondere a tutte le esigenze, dal punto di vista della salute, di tutto il territorio terramano. I medici chiedono di rispondere a quelli che sono i bisogni della popolazione. In questo momento il bisogno è di ottenere un ospedale sicuro, sicuro anche per gli operatori che vi lavorano, e occorre che questo sia collocato in una modalità tale che sia equidistante alle varie popolazioni che sono interessate. Ed ora la politica soddisfazione nel Partito Democratico per l'esito delle primarie per l'affluenza alle urne primarie di domenica scorsa, che hanno riportato in sella alla guida del partito il segretario uscente Matteo Renzi. C'è stata la maggioranza anche in Abruzzo netta della mozione Renzi, un 65% che vi soddisfa? Sì, è un ottimo risultato, sostanzialmente in linea con il risultato nazionale, che rappresenta intanto un fatto importante per la partecipazione che è stata notevole qui in Abruzzo, siamo sugli stessi livelli del 2013, e poi una grande spinta per il rilancio del Partito Democratico, per il cambiamento, e quindi Matteo Renzi, che ha ricevuto da questo punto di vista un mandato pieno da parte dei nostri elettori. Dopo queste primarie, a livello regionale, cosa accadrà all'interno del PD? Lavoreremo più di prima per cambiare l'Abruzzo, per governare bene come stiamo facendo, avremo una spinta in più che ci verrà dal sostegno della leadership di Matteo Renzi, che c'è stata sempre in questi anni, sia quando era capo del governo, sia adesso che sarà leader del PD e sarà il nostro candidato per le prossime elezioni. Tornando alle primarie, comunque in Abruzzo, la stragrande maggioranza dei dirigenti, degli amministratori del PD era al fianco dell'ex Presidente del Consiglio. Abbiamo avuto anche esponenti importanti, parlamentari, che hanno sostenuto le altre candidature. Certamente con Matteo Renzi abbiamo costruito in questi anni un rapporto di fiducia che è fondato sulla concretezza, perché dal governo di Renzi abbiamo ottenuto risultati importanti per l'Abruzzo, basta pensare al masterplan, basta pensare ai fondi per la ricostruzione dell'Aquila, e quindi non poteva che esserci anche, da questo punto di vista, un riconoscimento per il lavoro svolto. 12 associazioni datoriali regionali si sono unite per stilare un documento contenente tutte le criticità che mettono in ginocchio diversi comparti economici. L'appello è rivolto al governo regionale per snellire le procedure burocratiche. Sentiamo Francesca Romana Testi. 12 associazioni datoriali abruzzesi stilano un documento da rivolgere al governo regionale sul persistere della crisi strutturale. Dati allarmanti che dal 2008 ad oggi registrano l'aumentare della disoccupazione e la cessazione di migliaia di piccole imprese. L'hanno chiamata a vertenza Abruzzo proprio a simboleggiare l'idea di una grandissima impresa che volge verso il fallimento. L'appello è quello di un intervento immediato e finalizzato a sbloccare tutti i nodi burocratici che fanno perdere tempo e soprattutto risorse agli imprenditori di ogni settore. Siamo consapevoli che la regione non può fare tutto da sola, c'è una interconnessione con il livello nazionale, quindi sicuramente la regione deve rendersi protagonista nel scenario nazionale per meglio interpretare le esigenze del territorio. Lentezza burocratica, difficoltà di accesso ai bandi per fondi governativi, assenza di piani regionali di settore, politiche di internazionalizzazione, politiche attive del lavoro e ancora liberalizzazione dei servizi pubblici, riduzione progressiva e strutturale della fiscalità aggiuntiva conseguente l'extra deficit sanitario, un piano speciale per il turismo. Insomma un documento dettagliato di quelle che sono le necessità di 12 diverse associazioni di categoria. È il momento di far pesare in un confronto molto particolare e molto positivo la nostra posizione che rimane la spina dorsale del tessuto economico regionale. Le condizioni quali sono? Lo scenario economico in cui ci proviamo ha delle particolari difficoltà, però è anche vero che il tessuto imprenditoriale va salvaguardato e quindi da parte della regione richiediamo una maggiore attenzione. Chiude una grande azienda, anche una piccola azienda, mille dipendenti, si scatenano tutti per risolvere la situazione. C'è questa moria di imprese e pare che nessuno si muova. È da tempo che stiamo portando avanti questa vertenza a Bruzzo, chiediamo l'intervento immediato delle forze politiche regionali e nazionali, altrimenti faremo le nostre brave agitazioni. Dal 2010 al 2016 5.834 imprese nel settore dell'agricoltura in meno, 2.528 nel settore manufatturiero, 3.338 nelle costruzioni, 5.191 nell'artigianato, 6.041 nel commercio e 2.200 del turismo. Questo è un bollettino di guerra, il nostro più che un SOS è un grido d'allarme ed è l'ultimo avviso, perché qua si tratta di centinaia di All'Italia. A Francavilla questa mattina si è svolto il sesto congresso Fistel CISL dedicato ai lavoratori delle telecomunicazioni. Sono 10.000 quelli sospesi tra precarietà e incertezza rispetto al proprio futuro lavorativo. Cifre in calo anche per le vendite dei giornali e per la pubblicità nell'emittenza pubblica e privata. Sentiamo il servizio. Lavoratori delle telecomunicazioni tra precarietà e incertezza. La CISL presenta un quadro dei numeri che riguardano lavoratori e aziende di Abruzzo e Molise, analizzando difficoltà e nodi verso lo sviluppo. Con il turnover generazionale blocchiato abbiamo le aziende che ci vanno in crisi. Noi ad esempio abbiamo grosse aziende che potrebbero assumere i giovani, però hanno oggi in organico delle persone che stanno lì per lì per raggiungere la quiescenza, però con le nuove regole difficilmente riusciamo a fare politiche di svecchiamento. A questo si aggiunge il fatto che queste nuove aziende nel campo della TLC hanno la necessità di implementarsi dal punto di vista tecnologico e queste maestranze oggi molto su con l'età difficilmente sono così flessibili a riconvertirsi professionalmente per imparare queste nuove tecnologie. I lavoratori coinvolti nelle TLC tra le due regioni sono all'incirca 10.000 dipendenti, se consideriamo anche nel settore i call center e gli appalti telefonici. Anche l'editoria e l'emittenza rappresentano due voci in grave crisi. Crollano vertiginosamente i numeri per la carta stampata e si prospetta anche la riduzione delle sedie regionali per la TV di Stato. Manca una proiezione verso il futuro. C'è sempre questa volontà politica da parte di RAI di rivedere le sedi regionali e quindi far sì che ci sia la scomparsa della sede regionale o l'accorpamento della sede con altre sedi e quindi creare una macrosede. E quindi da questo punto di vista bisogna vedere invece come rafforzare le sedi regionali anche con delle produzioni locali che caratterizzano il territorio e quant'altro. Per quanto riguarda i quotidiani, anche questo è un settore molto in crisi negli ultimi anni, perché c'è stata poca raccolta pubblicitaria, l'impaginazione è venuta meno, si vendono meno quotidiani. Continuiamo a parlare di economia. Quest'anno spegne 80 candeline lo stabilimento della Saila Silvi Marina, un traguardo importante per il marchio con l'azienda che ha deciso di festeggiare assieme alla comunità teramana attraverso un'estate di eventi tematici a base di liquirizia. 80 anni fa tutto è iniziato dalle radici di liquirizia, le stesse che oggi arrivano all'interno di camion provenienti dalla Calabria e che un tempo invece si raccoglievano nelle campagne e nei dintorni di Silvi. Così nel 1937 da un'idea di Angelo Barabaschi è nata la Saila, acronimo di Società Anonima Italiana Liquirizia Bruzzese, che negli anni da piccola azienda è diventata una multinazionale a seguito dell'ingresso nel gruppo svedese Cloetta. Lo stabilimento di Silvi Marina però resta centrale nella produzione dei prodotti a base di liquirizia e menta ed è per questo che l'azienda ha deciso di festeggiare il suo ottantesimo compleanno condividendo la festa con la comunità teramana e abruzzese. Un'estate di eventi a Silvi in cui ci sarà anche la possibilità di visitare lo stabilimento e ripercorrerne la storia attraverso una mostra fotografica. Noi abbiamo pensato di accomunare queste due cose, cioè l'evento degli 80 anni è chiaramente una data come dicevamo storica, dopodiché appunto per festeggiare vogliamo aprire le porte allo stabilimento, ci sarà uno spazio espositivo per descrivere quello che è la liquirizia, quindi il perché Saila è qua, perché Saila è qui perché qui si raccoglieva la liquirizia, quindi qui nei dintorni si raccoglieva la liquirizia, la liquirizia nei primi anni del novecento, quindi vogliamo far capire, far conoscere alle persone la storia di questa società, di questa azienda, la storia della liquirizia e la particolarità di questa azienda. Questa azienda è l'unica in Italia per quanto riguarda la liquirizia che è in grado di estrarre in modo naturale la liquirizia delle radici, radici italiane. Vendite online in aumento, i dati dell'Istat certificano la crescita del commercio elettronico, Confesercente Abruzzo apre lo sportello SOS Web, vediamo di cosa si tratta. Un soccorso web per gli esercenti che ancora non hanno sperimentato le opportunità della rete nel mercato globale delle vendite online. Il servizio è messo a disposizione da Confesercente Abruzzo che dopo tante denunce sulla crisi vissuta dal commercio mette in campo nuovi strumenti più al passo con i tempi. Innanzitutto capire se nel settore di competenza di ogni singola attività c'è spazio per poter iniziare un'attività online, quindi una vendita online. Quindi noi in questo momento abbiamo attivato questo sportello che sarà attivo sempre, naturalmente a supernotazione, dove dei tecnici valuteranno se il prodotto che vuole essere venduto online ha quelle caratteristiche utili per creare un margine valido per l'azienda. Un'iniziativa che nasce da quale tipo di richiesta? Nasce dal fatto che molti hanno innanzitutto paura di entrare nel web perché lo vedono ancora come uno strumento di difficoltà, quindi con difficoltà anche di accesso. E poi perché non vogliamo creare le false aspettative su quello che il web può dare. Il pool di esperti in e-commerce e sviluppo web promette un'attenta analisi delle opportunità tra i numerosi canali disponibili in rete, così da far coincidere domanda e offerta, mercato, territorio e settore specifico. Prima di tutto faremo un'analisi del core business azientale e vedremo l'impatto che potrebbe avere l'azienda esplosa nel web. Subito dopo valuteremo tutte le opportunità che ci sono sui diversi canali e se ci sono le condizioni iniziali per cui è possibile affermare la propria presenza su web, le percorreremo. A chi è rivolto questo servizio? Quali sono le aziende che possono chiedere il vostro intervento? Praticamente tutti. Ed ora siamo allo sport con il calcio di Serie A e il Pescara, mentre il caso Montari continua a registrare altre reazioni. Oggi sulla vicenda è intervenuto anche il presidente federale Tavecchio. Il Pescara intanto è a lavoro per preparare la partita di domenica contro il Crotone. Calabresi in corsa per la salvezza, mentre i biancazzurri devono cercare di salvare l'onore, evitando altri record negativi per questa stagione davvero disgraziata. Sentiamo il servizio. La vicenda Montari continua a far registrare reazioni. Oggi è stata la volta del presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, che ha definito esecrabile quanto accaduto domenica scorsa al Sant'Elia di Cagliari, con particolare riferimento agli insulti razzisti di cui è stato fatto oggetto il centrocampista ganese. Tavecchio è stato sollecitato sul caso, a margine della proiezione del docufilm Crazy for Football a Milano. Il presidente federale poi glissa sulla squalifica di una giornata combinata a Montari, limitandosi a dire che un presidente federale non commenta il comportamento dei giudici, poiché sarebbe una cosa non corretta. Abbiamo fatto in Italia un'attività di promozione, girando tutte le regioni con Fiona May. Quello che è successo è esecrabile, Chiosa Tavecchio, ho parlato col presidente del Cagliari, si faranno delle iniziative. Intanto la squadra prova a concentrarsi sul penultimo impegno stagionale all'Adriatico Cornacchia. Poteva essere uno scontro salvezza nella fase calda della stagione, invece quello col Crotone sarà un incontro potenzialmente utile solo per i pitagorici e non per il Delfino, che semmai ha l'onore da salvaguardare. Nel 2012 il Pescara si è fatto tristemente ricordare per un girone di ritorno da due punti. Quest'anno invece potrebbe battere il poco invidiabile record di numero minimo di vittorie, tre, e di punti nella Serie A a 20 squadre, 21, appartenenti entrambi al Treviso, stagione 2005-2006. Oggi doppia seduta per la squadra di Zeman, che difficilmente recupererà Campagnaro, Vittorini e Stendardo. Qualche problema anche per Nicola, che sarà privo sicuramente degli squalificati Chrisetig Falcinelli e quasi certamente dell'ex Stojan, dopo il malore accusato nei giorni scorsi. Proprio l'assenza dell'ex lancianese Falcinelli, obiettivo estivo del Pescara e pupillo del DS Leone, priverà il Crotone della principale bocca da fuoco della squadra e il peso dell'attacco ricadrà su Trotta in gol contro il Milan. Dopo gli ultimi risultati positivi il Crotone crede sempre di più nella salvezza all'Adriatico Cornacchia, obbligo dei tre punti per i calabresi che puntano anche sulla ritrovata vena realizzativa, l'abbiamo appena sentito, dell'attaccante Marcello Trotta in gol contro i rossoneri del Milan. Andiamolo ad ascoltare. Sì, sì, siamo contenti comunque del risultato, anche se speravamo in una vittoria, però credo che alla fine è un buon risultato e dobbiamo continuare su questo ritmo. Sì, sicuramente andremo lì e non sarà facile perché loro comunque cercheranno di vincerla come hanno fatto quelli in ogni partita. Noi sappiamo che dal canto nostro dobbiamo cercare di portare a casa la vittoria per sperare sempre nella salvezza. Questo è logico, credo che è inevitabile che a un certo punto dell'anno che mancano poche partite cerchiamo di guardare chi c'è davanti e di riturre il GALP per provare questa salvezza. Sappiamo che loro ce la metteranno tutta, però speriamo di farcela. Credo che dalla pausa delle nazionali abbiamo lavorato alla grande e ci siamo forse anche un po' risicondo delle nostre qualità, anche se con molta umiltà, però anche qualche episodio a favore, qualcuno meno, però credo che in generale siamo stati su ogni gara e diciamo abbiamo migliorato le nostre idee, rafforzato e questo credo ci ha premiato. Queste settimane mi sento molto bene, ma la cosa importante è aiutare la squadra. Diciamo ieri il gol, sì, domenica era una bella soddisfazione, perché comunque arrivava dopo un bel po', però speravo di portare a casa anche i tre punti che secondo me erano più importanti per la squadra. Scendiamo in Lega Pro per occuparci del Teramo, non ci sono provvedimenti disciplinari a carico di Tesserati del Teramo e Feralpi Salò in vista della gara di domenica allo stadio Lino Turina di Salò valido per l'ultima giornata di campionato. Il portiere biancorosso Antonio Narciso esprime il suo rammarico per il pareggio con il Parma, ma la ritrovata solidità della squadra può far ben sperare per la salvezza immediata oppure passando dai play-out. Un po' di amarezza, un po' di rabbia, perché avevamo preparato bene la partita e è chiaro che non era la partita che sulla carta era facile da vincere, nel senso che alla fine incontravamo una squadra importantissima, una squadra che lotta ancora per vincere il campionato. Nonostante tutto siamo riusciti a creare delle buone occasioni, però molte volte nel calcio creare non basta, quindi ci vuole anche un pizzico di fortuna. Vedo sicuramente, ripeto, aver tenuto testa al Parma è motivo di orgoglio, è motivo di una squadra viva, è una squadra che vuole ottenere per forza la salvezza, io la vedo così perché alla fine bisogna trovare sempre il lato positivo, i lati positivi ce ne sono tanti. Sicuramente trovare una compattezza difensiva ti permette poi di gestire bene le partite, di acquisire sicurezza e cercare di sfruttare al massimo le occasioni che poi riesci a creare. Non è stato facile arrivare a questo, sicuramente questo sta a dimostrare proprio la voglia, perché alla fine non è che non si prende gol e meriti solo il portiere dei difensori, ma di tutta la squadra che giustamente cerca di subire il meno possibile. Se fosse questo forse sarebbe arrivato qualche partita prima, forse oggi staremo a parlare di qualche punto in più in classifica, ripeto, però non è facile, bisogna lavorarci, c'è un lavoro dietro, quindi prendiamo tutto quello di positivo che c'è, che a oggi, ripeto, cercare di subire il meno possibile è stato importante e secondo me potrà essere importante. E' tutto anche per l'edizione della notte del TG6, i prossimi appuntamenti con la nostra informazione sono domani mattina alle ore 7 con la rassegna stampa mattino 6 e poi con le tre edizioni del telegiornale alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per essere stati con noi, vi auguro una buonanotte.